La funzionalità della carta provinciale dei servizi pare non conoscere i limiti. È in continuo sviluppo e da cosa serve ce lo illustra l'assessore Roberto Bizzo. La carta dei servizi è una chiave. Con questa chiave noi possiamo accedere a tutta una serie di servizi che prima richiedevano la necessità di andare presso uno sportello, fare una coda, richiedere dei moduli, compilarli, eccetera. Pagamento di tasse, pagamento di imposte, asilo, iscrizione agli asili, borse di studi, tasse sui rifiuti, occupazione suolo pubblico, richiesta di contributi per imprenditori, per associazioni, richieste di borse di studio. Oggi è possibile da casa propria con la carta dei servizi e un computer. È fondamentale sottolineare il fatto che tutti i cittadini possono usufruire gratuitamente di tutti i servizi offerti dalla tessera sanitaria, carta provinciale dei servizi. Un altro pregio di questa iniziativa, ad esempio, è ma è più code negli uffici per avere una visura catastale. Gli assessori Roberto Bizzo e Hans Berger hanno voluto dimostrare concretamente alla fiera d'autunno di Bolzano, presso lo stand della rete civica, l'efficienza di questo sistema. La tessera rappresenta una chiave elettronica e digitale che permette un contatto diretto con la pubblica amministrazione. Sono in arrivo nuove tessere per chi ancora non è in possesso, ma per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.provincia.bz.it slash cartaservizi